Sono stato un grosso fan di Bob Dylan, ho detto a Jennifer che il primo concerto a cui sono andato quando ero un ragazzino, è stato proprio un concerto di Bob Dylan, ho visto Bob Dylan alla fiera del Kentucky, dello stato del Kentucky originariamente e a partire da quel momento sapevo che sarebbe stato un uomo speciale e la mia ammirazione per lui è continuata a crescere ed è stata per me una grande fonte di ispirazione come attore. I work to describe the festival in Roma. It's one of the best I've ever been to, really, in my whole career, I love it, everyone works so hard and has done such a great and beautiful job, it's thrilling. It certainly was amazing to be on screen with him. The first time I saw the movie and the cut went from Bob Dylan to me, I was kind of flabbergasted. Yeah. Describe the festival in Roma. Vibrant. 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 Grazie a tutti